Secondo quanto riportato da un articolo del Sole 24 Ore dell'8 ottobre scorso, l'Abruzzo, assieme a tutte le regioni del Mezzogiorno, è a quota zero per il potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego previsto dal governo Conte a seguito del varo del reddito di cittadinanza. In Italia sono state in totale 1.300 sulle 11.600 previste, quelle già eseguite. I fondi ci sono, dicono i consiglieri regionali del Partito Democratico, Blasioli e Paolucci, che chiedono la convocazione di una commissione ad hoc con l'audizione dell'assessore al lavoro quaresimale affinché vengano chiariti i motivi del ritardo nella pubblicazione dei bandi che potenzialmente dovrebbero aumentare l'organico gesiguo dei centri per l'impiego di 260 unità. Dal 2019 la regione Abruzzo ha 22 milioni di euro stanziati dal primo governo Conte, a oggi siamo nel 2021, i bandi di concorso stanno a zero, zero bandi di concorso, zero assunzioni, se si esclude i 37 di categoria C, diciamo che sono però assunti con i fondi PON. Questo significa sguarnire ancora di più di quanto sono già sguarniti i centri per l'impiego, che ormai non riescono a fare più neanche l'ordinario, figuriamoci l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. C'è poi tutta la partita legata ai navigator. Sono 48 quelli attualmente al lavoro in Abruzzo per 20 mila percettori del reddito di cittadinanza. I loro contratti scadranno a fine anno e, se non saranno rinnovati, lasceranno ancora più sguarniti i CPI. Per loro si chiede una proroga o una riserva nei prossimi bandi di concorso. Ma la carenza di personale rischia di pregiudicare anche l'arrivo di una parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli legati alle politiche attive del lavoro. Se entro il 2022 non sarà adottato e parzialmente completato dai centri per l'impiego, il progetto GOL, che prevede cinque percorsi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati, i fondi europei non saranno accreditati all'Abruzzo. Perché rischia di trasformarsi invece in un autogol? Perché a questo progetto e all'adozione di questo piano e soprattutto all'espletamento di questo piano sono condizionati i fondi del PNRR, la loro erogazione e la loro spesa. e siamo veramente in grande ritardo.